Una signora quarantenne, ricca e benestante dal ginecologo. Signora le ripeto che la sua vita privata non mi interessa. Mi scusi dottore, ma anche il mio giardiniere, giovane e carino. E anche con lui tre volte alla settimana. Signora ma lei è malata. Ecco dottore, lo spieghi lei a mio marito, che non sono una poco di buono. Grazie a tutti.